buongiorno bambini come state io sto bene ma come vedete non sono più nella camera ma ho cambiato location infatti come vi dicevo e come vi avevo promesso realizzerò un video un po speciale per farvi gli auguri di una buona estate per darvi il saluto di fine anno vi dico già che dovrete venire con me perché dovrò fare una camminata poi vedrete qualche clip qua in cui vi farò vedere dove andrò e che cosa farò per salutarvi per la fine del marco quindi ci vediamo tra poco e mi accompagnate nel percorso mentre sto morendo per la strada faccio una pausa prima del resto del percorso e ne approfitto per presentare il mio accompagnatore perché la vostra sorpresa è giusto giusta ma avrò bisogno di una mano ciao bambini ciao bambine lui Alberto è il mio miglior amico che mi aiuterà a indirsi bene comunque continuiamo a camminare ma di come va il percorso? molto bene non vogliamo stai già morendo un po' però arriveremo professore non arriveremo assolutamente allora ragazzi finalmente siamo arrivati questo posto si chiama il sacro cuore ed è in cima alla collina di Busca come potete ben vedere allora ragazzi la mia sorpresa per voi sarà far volare questa lanterna cinese con l'augurio di una buona estate quindi adesso prepariamo tutto poi posiziona il telefono e cerchiamo di lanciarla e così vi potrò dare un augurio che vi ho fatto per questa estate buona estate ragazzi e con questo bimbi vi auguriamo una buonissima estate ciao 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 ciao